Il pugilato si distingue in tre ere, diciamo l'era prima di me, gli anni 60, 50, 60, 70, poi dopo di me sono subentrate queste macchinette infernali contapunti che hanno dato allo stile dilettantistico un diverso modo di rappresentare il pugilato, più come il fioretto. Gli allenamenti cambiano sempre in funzione della gara e quindi ovviamente si lavora sotto il profilo atletico e di preparazione fisica generale. Grazie per la visione!